All I want for Christmas is you! Tanti auguri di buon Natale e di felicissimo anno nuovo! Che sia il 2021 migliore del 2020! Ragazzi, ci vuole davvero poco! Dai, ce la possiamo fare! Questo Natale sarà un Natale sicuramente diverso, però l'amore, l'amore è quello che ci salverà e quindi in chat, in videochiamata o anche chi può da vicino stiamo con le persone che amiamo questa è l'unica cosa importante E allora, tanti auguri a tutti un abbraccio forte, forte!